Il rapporto tra il creativo e il designer e lo sviluppatore è sempre stato un po' conflittuale, diciamo così. Questo perché effettivamente queste due figure parlano davvero lingue diverse, sono un po' davvero come il giorno e la notte, la luna e il sole. Il creativo usa strumenti tipicamente creativi, come per esempio può essere Photoshop, mentre lo sviluppatore è quello che tipicamente ha un profilo più tecnico ed è molto familiare alla scrittura del codice. Tuttavia queste due figure, sappiamo bene, necessitano di essere molto collaborative tra di loro e sedersi intorno allo stesso tavolo per lavorare sui medesimi progetti, alludono naturalmente alla creazione per esempio di pagine web. Bene, questa nuova funzione di Photoshop CC 2014 rilasciato ad ottobre, la funzione di Estry Asset, può aiutare in maniera straordinaria la collaborazione e l'armonia tra queste due figure, perché permette, come vedremo in maniera rapidissima e velocissima, di estrarre da un documento di Photoshop tutti gli elementi grafici che lo costituiscono nel formato idoneo per essere utilizzato da parte del web designer o dello sviluppatore nella costruzione delle pagine web, senza che questo processo sia un processo tedioso, noioso, manuale e quindi grande oggetto di perdita di tempo. Vediamo come funziona, è semplicissimo, vediamo questa pagina che stiamo elaborando con il nostro Photoshop, è tipicamente una pagina web, è giusto che il creativo utilizzi Photoshop perché naturalmente è lo strumento che meglio conosce, è il più creativo e quindi è portato a utilizzare questo. In questo momento vedete sulla parte superiore stiamo sviluppando tutta una serie di elementi di design della nostra pagina. Nel momento in cui ho completato il progetto ho bisogno di consegnare questo al web designer di cui, il quale deve naturalmente prendere ogni singolo elemento, tradurlo nei formati appropriati ed utilizzarlo nella costruzione della pagina web in HTML. Bene, guardate come posso fare io personalmente o anche lo sviluppatore stesso a questo punto, questa operazione in maniera velocissima. Allora, vi sto evidenziando per esempio, e lo sto facendo proprio, facendolo lampeggiare, accendendolo e spegnendolo, per esempio questo bottone della barra di navigazione che io sto disegnando. Bene, se io volessi un'edizione in PNG o in JPEG di questo elemento che si trova su questo livello, adesso mi basta semplicemente fare questo. Con il mio mouse vado sopra il livello e col tasto destro chiamerò la funzione Estrai Asset, molto semplicemente. Così facendo compare, come vedete, questa finestra che è un po' un connubio tra Photoshop Generator e la funzione Registra Salva per Web. Perché? Perché da un l'altro posso vedere innanzitutto un'anteprima dell'elemento che ho selezionato, come si presenterà ai nostri occhi nel momento in cui verrà esportato in un formato specifico per Web. E dall'altro, qui sulla parte destra, potete vedere che io posso definire quale tipo di formato utilizzare al lato dell'esportazione di questo oggetto su questo livello. In questo caso PNG a 32 bit. Posso scegliere per esempio A24 e posso vedere esattamente il mio elemento come si presenterà, quindi con una sua anteprima. Bene, questo diciamo è già una semplificazione notevole, quindi rapidamente posso esportare un oggetto che si trova su un livello in questo modo. Ma non ci fermiamo assolutamente qua, perché un esempio potrebbe essere che mi possa servire anche dello stesso elemento grafico una edizione in un formato alternativo, per esempio in GIF oppure in JPEG, non c'è nessun problema. Come io porto il mio mouse sul nome del livello, vedete con la possibilità col tasto più di aggiungere una variante in un altro formato, per esempio PNG a 32, piuttosto che non anche in JPEG definendo qua per esempio il fattore di qualità compressione che mi è più gradito. E anche qui come vedete ho una feedback in tempo reale della qualità che otterrò al lato in cui esporterò questo elemento in questo formato. Vedete che questo è davvero molto efficace, ma non solo. Qui per esempio mi servirebbe di fare questa operazione su tanti altri elementi. Bene, mi basta semplicemente portare il mio mouse, per esempio cliccando sul livello successivo, oppure lasciando questa finestra di dialogo aperta e dire qui nella parte bassa aggiungi anche quest'altro livello. Bene, vedete che si aggiunge quindi un ulteriore elemento che io andrò poi a esportare e così posso farlo per tutti gli altri livelli. Notate anche che posso fare una selezione multipla di più livelli e dicendogli aggiungi in 448 come vedete, vedete che aggiungo tutti questi altri elementi. Potete notare anche un'altra cosa. Se seleziono per esempio la cartella che contiene tutti questi elementi che fanno parte della mia barra di navigazione e gli dico aggiungi, quindi vedete che posso non solo aggiungere il singolo livello, ma anche N livelli che sono raggruppati all'interno di una cartella ed esportare gli stessi nel formato che voglio. Quindi è davvero davvero super efficace come sistema proprio di esportazione. Posso in 448 completare questo processo. Noterete anche che posso chiedere al nostro funzione di estrai anche l'esportazione dei medesimi asset, quindi dei medesimi livelli anche in un'edizione, per esempio in grandita di due volte, oppure in grandita anche di tre volte, questo perché potrebbe essere proprio di mia utilità avere un'edizione in grandita del 200 o del 300% sempre di questi oggetti e sappiate che questi fattori di ingrandimento sono anche personalizzabili da parte mia. Aggiungo un'altra cosa, se clicco sul pulsante dei settaggi a conclusione, che posso chiedere che nel momento in cui questo documento verrà alterato in qualche modo, automaticamente si aggiornerà anche l'esportazione che io stavo definendo, in maniera tale che io abbia sempre costantemente i file, gli elementi sui singoli livelli esportati e aggiornati in relazione a come è aggiornato il documento originale da cui essi provengono. Immaginate quindi quanto utilità possa avere. Nel momento in cui quindi ho completato la definizione di tutto quello che voglio esportare di questo documento, cliccherò il pulsante estrae, semplicemente così. Mi chiederà naturalmente, e questa è molto comoda, anche una destinazione, quindi in questo caso farò una cartella esportazione, ok, per web, diciamo, e gli chiederò di esportare dentro questa cartella tutto ciò che sono andato a definire. Guardate con quale velocità viene realizzato tutto questo, rispetto a magari a fare un'esportazione di tipo manuale. Guardate quindi il risultato, diciamo, dell'esportazione all'interno della mia cartella. Quindi ho tutti i miei elementi sui vari livelli esportati diligentemente nel formato che ho chiesto, con tutte le loro varianti e anche la loro edizione esportata, per esempio, ingrandita del 200% o del 300% a seconda di quello che gli avevo chiesto. Quindi veramente un modo eccezionale e rapidissimo fulminante di esportare elementi di un layout di Photoshop in formati per web alla velocità della luce.